Ciao ragazze, in questo tutorial vediamo come mettere lo smalto in tre semplici step. Allora, iniziamo a stendere lo smalto sulla punta dell'unghia. Dalle pellicine tiriamo su e poi completiamo i lati facendo leggermente ruotare l'applicatore proprio per seguire la naturale forma delle pellicine. E così ripetiamo per tutte le unghie. E' importante iniziare dalla punta dell'unghia per evitare che l'applicatore arrivi scarico. Più l'unghia è lunga e più questo passaggio è importante. La seconda mano, invece, serve a rendere lo smalto più coprente e a coprire eventuali piccoli difetti della prima applicazione, utilizzando sempre la stessa tecnica, proprio come vedete nel video. E questo è il risultato finale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!